Nel nome del Romano Pontefice, il Papa Francesco e della Santa Romana Chiesa, a onore della sede di Foggia Bovino, a te affidata, in segno della potestà di Metropolita, vi consegniamo i panni. È stato il nunzio apostolico in Italia, Peter Reich, ad imporri il Paglio, l'arcivescovo di Foggia, Giorgio Ferretti, segno di unità con il Papa, di investitura e di servizio pastorale nella chiesa foggiana. Una chiesa bella, bella come l'abbiamo vista anche al funerale dei tre giovani morti nell'incidente a Potenza, bella perché si sa unire nelle gioie, nei dolori, bella perché sa collaborare. Io non mi sono mai sentito solo da quando sono arrivato, ho sentito tanta gente che è stata con me, questo Paglio che è il simbolo di tanti che dobbiamo portare sulle nostre spalle e occuparci di loro, è un simbolo di qualcosa che faremo assieme. Nel giorno in cui la chiesa celebra la dedicazione della Basilica Cattedrale di Foggia, il clero, le autorità e i fedeli affollano le navate e la piazza davanti alla Casa Madre. In cerimonia Monsignor Ferretti preannuncia gli orientamenti pastorali del nuovo corso vescovile. Usciranno nei prossimi giorni, saranno divisi in tre capitoli, come vivere il noi nella chiesa, come annunciare il Signore in questo tempo contemporaneo nella Capitanata e come vivere la carità, con uno sguardo al giubileo del prossimo anno che è un giubileo di speranza, quindi che un tempo di speranza si apra per tutti noi.